buongiorno a tutti so che vi manco ma anche voi mi mancate io sto bene anzi voglio tranquillizzare tutti coloro che mi mandano messaggi chiedono notizie di me chiedono notizie di mio padre e voglio anche tranquillizzare tutti coloro che in questa fase di mia assenza fisica magari mettono in moto la propria fantasia anche questo ci sta perché non tutti siamo particolarmente impegnati o particolarmente sensibili io rientrerò il lunedì 15 giugno perché il 10 giugno mio padre fa 80 anni e io gli sto facendo questo regalo non solo sto vivendo ogni giorno con lui lo sto spronando a riazzarsi perché questa ischemia che ha avuto la domenica di pasqua lo ha purtroppo portato dalle stampelle alla sede a rotelle e quindi è giusto che io gli stia vicino come è giusto che lo faccia ogni figlio nei confronti dei propri genitori seguo ovviamente la città e vi posso assicurare che si sta andando avanti senza rallentamenti perché la mia giornata è costellata di incontri di videochiamate di incontri di gruppo in videochiamata quindi vi assicuro che sto seguendo in ogni caso la mia attività e lo state vedendo che si siamo ripartiti tenete conto che fino al 15 di maggio non era possibile fare nulla perché sapete bene che era tutto sospeso quindi noi siamo ripartiti velocemente e sto seguendo ogni singola attività vi ringrazio di tutto vi ringrazio anche per la vostra pazienza nel sopportare la mia assenza e simpatico anche questo aspetto prima sono stato accusato di eccessiva presenza ora magari qualcuno si lamenta della mia assenza ma queste sono manifestazioni di affetto non è altro ne sono ne sono fermamente convinto tenete conto che io in genere inizio la mia giornata in questo momento già alle 5 di mattina e sento gli assessori costantemente poi il momento principale della giornata è dalle 22 in poi che quell'orario già mio padre dorme e si inizia con la videochiamata col segretario generale col quale facciamo ogni sere appunto della situazione e poi i vari confronti e devo dire che gli assessori anche mi vengono a trovare e nella primo pomeriggio perché riesco a far dormire mio padre il primo pomeriggio si fa la lunga passeggiata in con discutendo dei vari problemi amministrativi e soprattutto si anche riflette con quella che la musica del mio torrente ci tenevo semplicemente a tranquillizzarmi e a dirvi che io continuo ad esserci e ci sarò sempre e comunque e mi permetto di dirvi ci sarò ancora più forte più ritemprato rispetto alla fase che abbiamo vissuto un caro abbraccio a tutti i miei amici e anche ai miei cosiddetti nemici o meglio avversari politici